Eccoci qui insieme al sottosegretario del Ministero dell'Ambiente Barbara De Gani, a cui do il buongiorno e benvenuto, per parlare di una bella iniziativa che poche ore fa è andata in scena a Padova, si chiama Vivere a Spreco Zero ed è una prima edizione di questo premio che è stato corrisposto a Susanna Tamaro. Perché Susanna Tamaro? Perché è una scrittrice che soprattutto è una persona che nella sua vita cerca di vivere in modo sostenibile e quindi mettere in uso tutte quelle buone pratiche che ognuno di noi dovrebbe cercare di attuare proprio nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. È vero che ho visto anche dei video di lei impegnata in esperimenti domestici sullo spreco zero, è una donna molto sensibile anche alle tematiche ambientali, ma concretamente è possibile passo dopo passo ridurre almeno lo spreco che può essere alimentare di territorio, di tanti tipi, attraverso una serie di iniziative? Un po' sono entrate nel vostro concorso? Beh abbiamo cercato di spiegare perché avevamo come platea i ragazzi dei licei padovani perché si deve non sprecare il cibo. Abbiamo però cercato anche di premiare quelli che sono gli esempi virtuosi e quindi come istituzioni noi facciamo sempre degli accordi per quanto riguarda i produttori e quindi alla fonte quando si produce di modo che quello che viene prodotto non venga gettato via. Si fanno accordi con la grande distribuzione che peraltro era presente al convegno perché le cose prima di scadere possano essere utilizzate magari da associazioni e ACLI a Padova ha presentato una bellissima iniziativa che loro stanno portando avanti e quindi il rapporto fra istituzioni, grande distribuzione e associazioni di volontariato. Però ci interessava anche porre in evidenza e dare i dati di quelli che sono lo spreco che avviene in ogni casa, quella che abbiamo chiamato nel nostro frigorifero. E quindi per questo avevamo chiesto a Susanna Tamaro di fare una lezione proprio ai ragazzi, una lezione magistralis che riguardava proprio lo spreco alimentare perché non ci rendiamo conto ma in generale un terzo del cibo che viene prodotto viene buttato via nelle varie fasi della filiera e non ci rendiamo conto che anche il nostro frigorifero, quindi le nostre cattive abitudini di singoli fanno sì che venga sprecato davvero molto cibo. Ecco, io qui ho visto un dato abbastanza impressionante, 1,2 miliardi di tonnellate di cibo che di fatto passano dalla dispensa al cassonetto senza essere utilizzati. La vostra è un'iniziativa di sensibilizzazione, ci sono delle azioni concrete, appunto degli accordi nuovi che possono essere messe in campo sia a livello istituzionale centrale che poi delle diverse piccole istituzioni per favorire una riduzione significativa di questa cifra impressionante? Allora, questa sensibilizzazione la stiamo facendo e stiamo partendo dalle scuole, lo stiamo facendo perché con la carta di Bologna prima che è stata poi ripresa dalla carta di Milano è diventato fra virgolette un obbligo non solo morale ma anche economico perché questa ha una valenza economica ma anche ambientale perché produrre cibo che poi non si utilizza significa sprecare suolo, sprecare acqua, sprecare energia per produrlo ma anche perché diventa rifiuto sprecare energia e acqua per smaltirlo e quindi voglio dire sicuramente questo diventa diseconomico sia dal punto di vista proprio monetario ma anche dal punto di vista del bilancio ambientale e quindi abbiamo cercato di coinvolgendo ovviamente il dirigente scolastico provinciale ma anche gli insegnanti di spiegarlo ai ragazzi anche perché come ministro dell'ambiente abbiamo fatto delle nuove linee guida che sono disponibili sul sito www.minambiente.it dove lo spreco alimentare ha un suo capitolo, un suo fascicolo e può essere insegnato dai bambini della scuola materna fino ai ragazzi in maniera ovviamente diversa della scuola superiore ci premeva farlo sapere e abbiamo cercato con questo convegno di farlo sapere prevalentemente ai ragazzi ma dopo era giusto anche premiare le buone pratiche che esistono già gli esempi virtuosi tra l'altro vedo che tra gli esempi virtuosi ci sono anche dei comuni del nord est per esempio oltre ai milanesi, ai fiorentini, ai brianzoli abbiamo visto che è stata premiata Udine poi a Zano X in provincia di Pordenone e Spinea nel Veneziano che cosa hanno proposto? Allora Udine che è una città ovviamente capoluogo ha fatto nel bando, nel bando delle mense, ha messo proprio nell'ambito del capitolato la richiesta che il cibo che non veniva utilizzato venisse ad essere recuperato e come doveva essere recuperato e questa secondo me è una bellissima iniziativa soprattutto da un comune capoluogo e quindi pensiamo al quantitativo di cibo che può essere avanzato dalle mense ma altre sono state le iniziative proposte dai comuni come un portale dove poter trovare la possibilità di avere domanda e offerta di chi ha cibo in scadenza e chi invece ha la necessità di acquistarlo Questa è una domanda che volevo fare, nell'era di internet io non dico di arrivare ai piani quingrenali sovietici però bene o male riuscire a far incontrare un po' la fonte, la domanda e l'offerta mi sembrava la strategia più... Ma questa è una cosa che già avviene anche a Clipadova oggi ha presentato quello che già è effettivo sul territorio della nostra provincia ma anche altre associazioni hanno presentato quello che già svolgono nei loro territori e che purtroppo questa attività viene fatta dal volontariato e quindi sarebbe più giusto incentivare le buone pratiche all'interno delle amministrazioni Sono oltre 500 i comuni che hanno aderito a questa iniziativa 500 su 8.000 sono un numero abbastanza consistente e stanno addirittura aderendo le regioni stesse proprio perché si vuole attraverso ovviamente i nuovi, anche i social perché sono nate anche delle app per incrociare un po' la domanda e l'offerta di chi magari ha il frigo pieno ma decide di andare fuori a cena e quindi regala il cibo a quelli che possono essere vicini di prossimità Ci sono delle belle esperienze Ci sono delle belle iniziative Anche nei quartieri proprio stessi, tra vicini di casa sostanzialmente Però è ovvio che se le amministrazioni comunali si prendono a cuore questo tipo di attività che è un'attività che non costa niente, voglio dire, non ha bisogno di grande impiego di denaro ha bisogno però del volontariato, ma questo fortunatamente nel nostro nord-est ne siamo davvero molto ricchi e ha bisogno di mettere proprio in collegamento domanda e offerta Anche la creazione di un sito web, di un portale piuttosto che la messa in comunità delle informazioni fa sì che molto cibo non vada sprecato Ecco, so che è in partenza un'altra iniziativa in questa direzione che riguarda le famiglie No, abbiamo pensato e stiamo lavorando per fare una dichiarazione di intenti con Union Camere partendo ovviamente con questa progettazione pilota qui dal territorio della provincia di Padova perché abbiamo visto i dati di un sondaggio che è stato commissionato dal Consorzio del Recupero della Carta un sondaggio SVG che ci spiega perché gli italiani, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei ma soprattutto negli Stati Uniti, quando vanno al ristorante e avanzano il cibo si vergognano e quindi pensano che non sia giusto portarselo a casa Allora, non è chic, non sarebbe chic Ecco, noi vogliamo invece renderlo chic perché lo spreco è anche questo diventa anche una funzione educativa e quindi vorremmo fare questa dichiarazione di intenti e poi collaborare con l'associazione degli albergatori perché diventi di moda chiedere al ristorante di portarsi a casa la bottiglia avanzata piuttosto che il cibo avanzato e non far finta magari di portarlo a casa perché si ha un animale domestico, un cane, un gatto ma proprio perché siccome è cibo che tu hai sul piatto che in ogni caso andrebbe nella spazzatura sarebbe giusto poterselo portare a casa e mangiarselo magari come avanzo il giorno dopo proprio a cena o a pranzo Assolutamente, uno non deve nemmeno cucinare il giorno dopo Ecco, quindi vogliamo fare una cosa un po' carina con questo nuovo packaging abbiamo chiesto ai consorzi della carta, dell'alluminio e della plastica che sono normalmente i contenitori nei quali si può raccogliere il cibo di darci una mano in questo ed è questa insomma la cosa che vorremmo presentare esteticamente proprio in quella giornata Allora, abbiamo una piccola pausa per due minuti di pubblicità ma poi torniamo insieme perché il tema del recupero anche del suolo delle materie che vengono utilizzate tutti i giorni durante le nostre normali attività è a un vero peso anche economico ne parliamo tra poco con il sottosegretario Eccoci qua, siamo tornati insieme per parlare di un argomento che diventa importante anche in termini economici tentare di ridurre gli sprechi alimentari quante volte andiamo a vedere il nostro frigorifero a mano in cuore diciamo no questo è scaduto magari oppure qui adesso stasera non sono a casa chi mangia questa roba che ho cucinato e va a finire direttamente sulla spazzatura ecco tutto ciò moltiplicato 56 milioni di abitanti come sono gli italiani ha un grande peso il sottosegretario è proprio qui che voi volete intervenire si ha un peso anche dal punto di vista economico è quasi un punto di pila quindi ha sicuramente un peso e vogliamo intervenire soprattutto perché si può intervenire come dicevo prima dall'inizio dal campo fino ad arrivare al nostro frigorifero per fare una campagna e quindi cercare di sensibilizzare tutta la popolazione stiamo lavorando come dicevo prima prevalentemente nelle scuole dando anche dei numeri e spiegando quelle che possono essere le buone pratiche ma quanto potrebbe pesare tutto ciò economicamente? beh economicamente sicuramente ha un peso bisogna vedere poi se questo cibo viene buttato se si riesce a recuperarlo perché quando il cibo è in scadenza non ancora scaduto si può ovviamente ancora fare una donazione e invece dipende poi come lei diceva prima la nostra patumiera c'è cibo e cibo perché ci sono dei metodi per cercare di utilizzare il più possibile quelli che noi chiamiamo scarti ma molto spesso non lo sono ad esempio le bucce delle mele piuttosto che altro e qui c'è tutta una cucina creativa che utilizza gli scarti e noi nella manifestazione che abbiamo fatto poche ore fa abbiamo presentato proprio la possibilità di utilizzare gli scarti di cucina questa è una tradizione un po' italiana perché moltissimi dei nostri piatti storici chiamiamoli così delle nostre tradizioni nascono proprio dal recupero del cibo che magari non si è consumato il giorno prima mai viene trasformato al giorno dopo pensiamo insomma le polpette piuttosto che alcune minestre che vengono fatte con il pane magari avanzato ecco quindi questo c'è nella nostra tradizione si vuole un po' recuperare queste tradizioni e anche creare ricette nuove quindi c'è una parte di diminuzione di quello che potrebbe essere l'eventuale scarto del cibo ma anche come si diceva prima cibo buono che però viene buttato perché non viene consumato si sembrano argomenti marginali invece muovono un largo settore economico da qui fino anche al riciclo di tutto il resto dei materiali penso alle plastiche, agli oli esausti sono temi che si stanno imponendo in maniera sempre più importante nella gestione dei comuni ogni tanto qualche emergenza vedi Napoli o anche Roma stessa c'è stata protagonista purtroppo recentemente o la Sicilia ci sono state situazioni molto pesanti legate alla mancata gestione del tema del riciclo magari della raccolta porta a porta qui sembra una cosa abbastanza scontata ma non è così in tutta Italia c'è un lavoro che... no allora non è così in tutta Italia i dati che sono stati presentati da Ispra solo qualche... forse la settimana scorsa, l'altra settimana hanno dimostrato che noi abbiamo ancora delle grandissime difficoltà io stessa sono riuscita ad andare alla Fiera del Levante con i capoluoghi di regione delle regioni del sud che con CONAI che è l'organismo che riunisce sei consorzi stiamo cercando di dare una mano a queste città per attuare, avviare e attuare una raccolta differenziata a volte avviarla, a volte attuarla in maniera corretta è vero che ci sono tanti modelli diversi per ogni città forse degli indirizzi... ci sono dei modelli diversi ma io credo che questo però dipenda da tutta una serie di fattori che non necessariamente bisogna uniformare se io penso al nostro territorio ci sono raccolte dove si fa raccolta di multimateriale ancora con cassonetti come ad esempio si fa prevalentemente a Padova parlo della città, piuttosto che raccolte spinte come si possono fare come vengono fatte in provincia di Padova ma anche in provincia di Treviso e da altre parti molto spesso la differenza sta nel fatto che sia in un comune capoluogo non sia in un comune capoluogo ci sono ancora i cassonetti o c'è una raccolta differenziata spinta sul porta a porta si va anche oltre perché molto spesso si arriva anche a una raccolta differenziata è stata talmente spinta che uno ha la sua tessera e quindi sa perfettamente che cosa riesce a produrre come rifiuto l'Italia è molto molto diversa dobbiamo dire che il Veneto in particolare il nord est è messo molto bene il Veneto sicuramente nei dati che sono stati presentati da Ispra è la prima regione dove si effettua una raccolta differenziata però adesso si sta andando oltre perché non si guarda solo la raccolta differenziata e la validità della tipologia di raccolta perché c'è anche qualità e qualità nell'ambito della raccolta ma si guarda all'effettivo riciclo perché anche la Commissione Europea ci ha detto che bisogna andare che è il tema che poi interessa ai cittadini che dicono ma lavoriamo tanto avanti e indietro con questi sacchetti della spazzatura per differenziare poi deve essere riciclato eh sì, l'effettivo riciclo che è la cosa fondamentale soprattutto in un paese come il nostro che è molto scarso di materie prime perché allora si dà maggior valore anche a questo lavoro che viene fatto dal singolo cittadino perché si va effettivamente a recuperare la materia e quindi il rifiuto o i rifiuti la raccolta differenziata nell'ambito dell'effettivo riciclo diventano una vera e propria miniera di materie prime che diventano magari prime e seconde quindi vengono e possono essere riutilizzate si va verso un'economia circolare non più un'economia lineare dove uno prende, consuma e getta via ma un'economia che viene che rimette in continuazione, in circolo quello che è e quindi quello che può essere uno scarto di una produzione diventa materia prima per una produzione seconda anche se vale sempre il discorso che abbiamo fatto all'inizio la prima regola è non sprecare anche in questi settori perché comunque richiede energia penso dalla parte dei cittadini si spera sempre di arrivare a un mondo in cui anche riciclare diventi talmente economicamente vantaggioso anche per questi comuni che abbassano le tasse ai cittadini di modo che in questa maniera si favorisce finalmente anche la sensibilizzazione generale sul tema penso c'è anche questo ostacolo di mezzo volevo allargare un po' il tema anche alla questione energetica perché è vero che siamo anche di fronte a un ripensamento generale anche delle politiche che sono state fatte è stata fatta una grande campagna che ne so, a favore degli impianti fotovoltaici poi ci siamo accorti che c'erano delle difficoltà oppure degli inceneritori a biomasse poi c'erano delle difficoltà anche su questo motivo c'è un ripensamento sulla gestione in Italia delle risorse energetiche? Allora, ci sono degli obiettivi il calendario lo fa l'Europa in materia energetica perché noi come Stato italiano alla fine firmiamo degli accordi e per quanto riguarda le energie rinnovabili in particolare il primo impegno è quello del 2020-2020 che era il fatto di avere almeno il 20% di energia che arriva da fonti rinnovabili è ovvio che con le politiche energetiche di settore che sono state svolte nel nostro paese alcuni dicono si è un po' drogato il mercato è ovvio che voglio dire gli incentivi che sono stati dati ad alcuni settori hanno fatto sì di rendere economicamente conveniente uno sviluppo di una determinata energia piuttosto che un'altra ovviamente sempre da fonti rinnovabili perché in virtù proprio dell'incentivo stesso perché se no dal punto di vista economico se non ci fosse stato l'incentivo non sarebbe stato sicuramente conveniente è ovvio che man mano che si è andati avanti si è cercato di ritarare voglio dire questi incentivi che forse erano stati dati in maniera troppo affrettata nel senso che non veniva agevolato la persona che faceva l'impianto lei ha fatto l'esempio fotovoltaico sopra la casa ma alcuni impianti sono stati fatti e sono stati acquistati e sono stati tenuti da alcuni fondi molto spesso anche non nazionali e quindi è stato forse utilizzato male rispetto a quello che era invece la volontà del legislatore quindi si è cercato di frenare Alla fine le società che si occupano di energia chi ci lavora o anche le cosiddette eco-mafie sanno benissimo dov'è il business è lo Stato che deve cercare di gestire questo argomento che sembra così un argomento marginale qualcuno sa dove trovare i propri interessi bisogna correre spesso ai ripari Sì, però bisogna anche dire che l'Italia ha fatto dei passi da gigante e che al 2020 arriveremo abbondantemente alla percentuale del 20% arriveremo abbondantemente prima del 2020 e poi dobbiamo anche capire qual è il modello di sviluppo che noi vogliamo Allora, siccome tutti noi utilizziamo l'energia che l'energia venga prodotta dall'idroelettrico dal fotovoltaico dal geotermico Allora, bisogna che ci mettiamo anche d'accordo che cosa vogliamo perché in questo momento la stragrande maggioranza dell'energia che noi utilizziamo viene prodotta dal petrolio quindi anche qui l'energia se la vogliamo pulita dobbiamo in qualche modo capire qual è il modello di sviluppo che noi vogliamo in base al modello di sviluppo che noi scegliamo per il nostro futuro per il futuro del nostro pianeta allora bisognerà indirizzare le politiche energetiche perché lo sappiamo perfettamente e ci sono i dati che verranno ovviamente discussi fra qualche giorno alla COP alla conferenza internazionale sul clima che si tiene a Parigi dal 30 novembre all'11 di dicembre che il fatto di utilizzare il pianeta come stiamo facendo soprattutto con le emissioni di CO2 sta cambiando completamente quelli che sono i meccanismi climatici del nostro pianeta per cui le decisioni dei grandi della Terra che verranno prese a Parigi dovranno essere vincolanti e dovranno contenere questa visione di sviluppo futuro senza il petrolio certo il nostro paese può essere tra i protagonisti di queste conferenze porta dei modelli positivi o siamo in coda no secondo me noi portiamo in dote una serie di elementi di discussioni internazionali che ci sono state nel nostro paese ne voglio ricordare tre tra l'altro all'Expo se ne è parlato anche tanto di questi aspetti era uno dei tre il primo è stato il semestre italiano che ci ha permesso di gestire in maniera da protagonisti questa conferenza internazionale il secondo è stato ad Addis Abeba in tema di cooperazione internazionale perché anche qui noi non possiamo dimenticarci dei paesi in via di sviluppo o quelli che hanno degli oggettivi problemi perché quello che avviene ad Addis Abeba è quello che avviene qua e gli effetti sono i medesimi per cui dobbiamo insegnare le buone in Libia visto che è uno dei nostri fornitori principali ma anche insegnare le buone pratiche è il nostro compito e il terzo è ovviamente Expo perché in Expo ci sono state la presenza di 120 delegazioni straniere sono venuti ministri non solo dell'ambiente ma magari dell'agricoltura piuttosto anche con altri referati in Italia secondo lei so che lei era molto spesso lì tra i protagonisti degli incontri dei convegni proprio di questi incontri con le delegazioni anche internazionali che cosa ha lasciato Expo come segno in questo settore proprio della green economy secondo me come dicevo prima da un lato che c'è la necessità di arrivare a uno sviluppo circolare cioè che tutto quello che noi in qualche modo produciamo deve essere rimesso in circolo in maniera positiva e il secondo la consapevolezza che le tematiche ambientali sono interdisciplinari riguardano qualsiasi come si può dire momento della nostra vita della nostra vita per cui non possono essere relegate al margine quindi devono essere declinate anche per quando si parla di sviluppo economico quando si parla di salute umana quando si parla di educazione e quindi la complessità e la necessità di parlare delle tematiche ambientali in qualsiasi aspetto della nostra vita comune e non comune istituzionale e non il fatto di aver scelto di fare la carta di Milano e farla firmare dal singolo cittadino cioè una presa di responsabilità voglio dire personale il fatto di averla fatta firmare anche a istituzioni comuni stati è stata una cosa secondo me corretta e giusta il fatto di voler andare a Milano dicendo noi europei stiamo proponendo una legislazione che è il massimo di quello che ci può essere in questo momento a livello mondiale perché siamo con una legislazione assolutamente restrittiva però non può valere solo per l'Europa deve valere anche per Stati Uniti Cina e poi ritornando allo spreco alimentare siccome chi consuma più CO2 dopo Stati Uniti e Cina è lo spreco anche attraverso quello che è lo spreco alimentare quindi anche attraverso le buone pratiche che possiamo mettere ogni giorno in pratica singolarmente anche sì sì certo poi appunto restere attenti a non deludere i cittadini secondo me prima di tutto su questi temi perché appunto magari ci sono territori che hanno delle percentuali di riutilizzo di recupero di riciclo altissime e anche chi poi gestisce la cosa pubblica deve fare in modo che questo venga premiato attraverso una gestione anche corretta di queste società si è parlato anche tanto delle municipalizzate c'è chi funziona bene e chi invece funziona veramente molto male ecco mi riferivo proprio a questo c'è una legge anche che è intervenuta per cercare di sì no ma c'è anche una differenza sostanziale fra il nord e il sud mentre nel nord mediamente dal centro al nord insomma la raccolta ad esempio la raccolta differenziata viene fatta anche se in maniera diversa molto spesso nel sud è a macchia di leopardo ci sono territori anche in Campania lei faceva riferimento prima a Napoli in Campania ad esempio ci sono territori come Salerno dove la raccolta differenziata c'è funziona benissimo e ci sono invece territori dove non c'è raccolta differenziata direi che le due regioni fanalino di coda sicuramente sono Sicilia e Calabria dove si può lavorare io mi sono sempre domandata dalla prospettiva ho visto che le aziende che gestiscono questi settori qui a nord est sono diventate anche grandi aziende hanno fatto delle partnership nel settore dell'energia sono cresciute intorno a questi temi perché in altre zone diventa invece un problema la gestione dov'è l'inghippo? ma secondo me dipende molto anche dalla sensibilità degli amministratori locali perché qui si è trovato un clima favorevole e quindi c'è stata anche una forte determinazione perché all'inizio quando adesso io ricordo quando è stata chiesto ai cittadini di fare la raccolta differenziata non è che tutti fossero contenti anzi cioè tu devi andare a spiegare il perché fai la raccolta differenziata e i benefici di una raccolta differenziata per cui è oneroso sia dal punto di vista voglio dire politico che dal punto di vista alla fine del singolo cittadino quindi c'è stato anche del coraggio secondo me da parte degli amministratori a voler continuare a insistere sulla raccolta differenziata in altri territori questa non è sentita come una priorità da noi lo è da tempo il fatto di arrivare a una discarica zero il fatto di dover utilizzare tutto ciò che in qualche modo viene scartato cioè da noi è la quotidianità cioè noi ci accorgiamo se qualcosa non funziona parlo parlo come cittadini da altre parti d'italia non è così non c'è questa sensibilità ed è per questo secondo me che bisogna insegnarla ai nostri ragazzi perché i ragazzi poi devono a casa insegnare ai genitori molto importante ci sono anche tantissimi altri temi di cui potremmo parlare però il tempo è sempre tiranno nonostante sia una trasmissione che complessivamente dura un'ora ma insomma arriviamo sempre al limite alla fine con altre domande da fare vorrei dire che le faremo la prossima volta che viene a trovarci grazie a Barbara Degani di essere intervenuta con noi questa mattina speriamo nel 23 partirà questa nuova iniziativa per i box per portarsi a casa anche quello che rimane sul piatto al ristorante vedremo come sarà questo box se convincerà gli italiani a cambiare metodo anche al ristorante noi ci proviamo insomma l'importante è appunto lo spirito che ci si mette grazie a voi di essere stati con noi noi ci vediamo come sempre domani arrivederci quindi buona giornata grazie a tutti grazie a tutti